Amici di Parle Europa, ben ritrovati. Vi parliamo dagli studi televisivi del Parlamento Europeo a Bruxelles. Siamo in compagnia dell'onorevole Lara Comi, un volto notissimo per i nostri ascoltatori, europarlamentare di Forza Italia e quindi anche appartenente qui al Parlamento Europeo, alla famiglia del Partito Popolare Europeo. Onorevole Comi, lei è l'eurodeputata più giovane della delegazione italiana e ha la sua prima legislatura, con ogni probabilità ci sarà anche nella prossima. Penso che sia tempo di bilanci. Questi cinque anni come sono stati? Cinque anni che sono volati via, nel senso che sono entrata a 26 anni e ci si rende poco conto che cinque anni sono passati. Però ho avuto una bellissima esperienza che spero di poter continuare anche nella prossima legislatura. Un Parlamento concreto, un Parlamento e anche una commissione, che è quella del mercato interno nella quale sono titolare, molto attiva e reattiva per costruire una nuova Europa. Anche un'Europa diversa, perché noi abbiamo votato ad esempio per l'armonizzazione di un sistema fiscale, per gli standard europei, per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Quindi andiamo in quella direzione. Ma manca un tassello importante che è quello di un'unione politica, perché noi lavoriamo secondo me anche rapidamente rispetto ad alcuni Stati membri, ma abbiamo sempre il gap che le direttive vengono recepite con almeno due anni di ritardo. L'Italia è il classico esempio dove vengono recepite ancora più tardi ed entrano addirittura in infrazione. Tra le direttive che stanno comportando una procedura di infrazione c'è quella per esempio del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione sulla quale lei si è spesa. Sì, mi sono spesa tantissimo perché oltre ad essere di competenza della Commissione Mercato Interno aveva un obiettivo ben preciso nel 2010, che era quello di generare liquidità all'interno del sistema. Quindi doveva essere recepita con estrema rapidità negli Stati membri, non come in Italia dopo due anni non ancora totalmente recepita e ha fatto benissimo il commissario Tajani a procedere con un'infrazione. Che cosa consiste questa direttiva? Da un diritto sacrosanto, quello di essere pagati entro 30-60 giorni dalla pubblica amministrazione quando una piccola impresa, una grande impresa o un privato ha un credito. Un'altra proposta che avevamo pensato di fare a livello italiano è la compensazione tra i debiti che si hanno, cioè che la pubblica amministrazione ha dei debiti nei confronti del cittadino e a sua volta il cittadino che deve pagare determinate imposte e tasse. Un bilancio è una compensazione anche perché con la nuova direttiva la pubblica amministrazione pagherebbe l'8% di interessi sul periodo di ritardo che viene a considerare. Perciò è un peso sicuramente ancora più importante. Dobbiamo dire che gli altri Stati membri, in particolar modo la Germania e la Francia, sono già a buon punto e pagano già 60 giorni, come devo dire anche la Lombardia. Quindi non tutta l'Italia è uguale su questa direttiva, la Lombardia paga 60 giorni. Ecco, questo è un tema molto importante, se ne occupa la Commissione Mercato Interno perché questa differenza di condizioni dei pagamenti finisce per mutare l'equilibrio del mercato, cioè per violare la libera concorrenza. Lei si è occupata anche di una cosa che forse è meno pubblicizzata ma non è meno importante che quella della uniformità degli standard, cioè in modo che in Europa si possano usare con relativa uniformità le apparecchiature, specialmente le apparecchiature tecnologiche. Perché? È vero che viene pubblicizzata poco ma in realtà è uno dei regolamenti più importanti che abbiamo votato in Parlamento e in prima lettura. Quindi vuol dire che col Consiglio abbiamo trovato subito un accordo. L'obiettivo qual è? Quello di armonizzare, ovvero di avere degli standard qualitativi ma anche tecnologici legati a qualsiasi prodotto che siano armonizzati. La mia grande speranza è quella di avere, ad esempio, delle prese di corrente uguali dovunque in tutta Europa. Quindi cancellare quelle che possiamo trovare magari in Inghilterra che sono diverse dalle nostre. Non è una banalità questo perché viene a cambiare un mercato e anche un'idea di mercato interno. Ecco, io volevo proprio soffermarmi su questo perché siccome lei è molto presente anche sui social network e fra i parlamentari europei quella che maggiormente, forse anche perché è la più giovane, ma quella che maggiormente utilizza questi nuovi strumenti, c'è stato anche chi le ha contestato quando si parlava del caricatore unico per i telefonini. Per esempio, sì, va bene, ma le cose importanti sono per esempio il lavoro per i giovani, però in realtà c'è un nesso. Sicuramente collegato perché nel momento in cui, e forse è questo che manca un attimo di essere smart, perché nel momento in cui io do assieme ai miei colleghi determinate regole per giocare, mi permetto il termine giocare perché influenza di più i giovani, quindi creare anche delle start-up di innovazione, con questi standard io posso avere una mobilità e un commercio molto più aperto, quindi non devo fare una produzione diversificata. Spiace che a volte questo non si capisca, cioè non stiamo qui a parlare della curvatura delle banane, per essere molto chiari, ma stiamo parlando anche di applicazioni sui telefoni, di applicazioni delle prese di corrente cambiano anche, il prezzo sembrerà della corrente stessa, cioè vengono a crearsi una filiera produttiva, quindi secondo me non era assolutamente da minimizzare, però poi una volta va spiegato. È chiaro che poi ognuno comunque la vede a suo modo, tuttavia anche sullo specifico tema del lavoro, ed in particolare del lavoro giovanile, c'è stata una battaglia molto difficile, ma per esempio quella sulla garanzia giovanile, anche questa è una cosa che lei ha spinto fortemente. Sì, avendo neanche l'età e avendo vissuto il precariato sono convinta che l'Europa deve dare una grande spinta, ma la deve dare anche all'Italia, perché il fondo di garanzia per i giovani, che è dato da un miliardo e mezzo diviso in tre anni, l'Europa l'ha messo a disposizione, ma l'Italia deve presentare dei progetti, e questi progetti generalmente sono su scala provinciale, quindi togliendo le province vorrei capire poi come avviene il tutto. Quello che manca sempre all'Italia è quello di sfruttare al meglio l'Europa e i fondi europei che ha. Noi siamo uno dei paesi, forse siamo il penultimo nella tabella, confido ancora di non essere l'ultimo, che utilizza solo il 50% dei soldi che dà a disposizione l'Europa. Quindi non lamentiamoci di quello che noi diamo all'Europa come aspetto economico, perché siamo i primi a non essere in grado di poter utilizzare tutti i fondi europei. Dal 2002 al 2013 abbiamo perso 60 miliardi di euro in fondi, dal 2008 al 2013 ne abbiamo persi 15 miliardi di euro, sono una finanziaria, anzi l'ultima è una finanziaria, i precedenti sono quasi 3-4 finanziarie, quindi queste potevano anche ridurre il cuneo fiscale. Certo, e tra l'altro sono anche risorse dei contribuenti italiani, visto che siamo un contribuente netto. Oiovo Lecomi, nell'ultima plenaria in particolare, lei è intervenuta su un argomento, smart per usare la sua espressione, che è quello della protezione dei dati personali, insomma di tutto ciò che si muove intorno all'online e ai meccanismi di internet, esprimendo delle perplessità, perché il Parlamento europeo ha adottato regole più severe, cosa hanno che non va queste regole? Allora, questo era un dossier molto delicato, che è quello della protezione dei dati, in seguito anche al DataGate che si era creato negli Stati Uniti. Io sono relatore per il mercato interno, e il mio obiettivo, assieme a tanti altri colleghi del mercato interno, era quello di rendere sicuramente più accessibile il mercato, anche ai giovani che vogliono sviluppare le nuove applicazioni, che possono essere applicazioni online, applicazioni della Apple, della Samsung, proprio da Android fino agli altri sistemi. e invece hanno posto delle regole molto ferree, che quindi limitano anche la creatività del giovane, perché il giovane spesse volte ha una creatività enorme, risorse molto basse a livello economico, e quindi io non ho ritenuto assolutamente giusto limitare questa potenzialità. È normale che se ci sono delle applicazioni che violano la privacy, allora queste devono essere sanzionate, ma mai limitare la creatività di giovani che vogliono entrare anche in un mondo del lavoro utilizzando queste application, perché tanti diventano business. Un'ultima domanda, si parla molto naturalmente di euroscetticismo, l'Europa così com'è naturalmente viene criticata un po' da tutti, lei in quale fazione si arruola? Lei è euroscettica, eurocritica, euroottimista? Eurorealista è il termine che mi piace di più, perché l'Europa così non va bene e lo dicono tutti i partiti, ma ci sono strade diverse per raggiungere l'obiettivo di un cambiamento. Quello che io ritengo opportuno è un cambiamento costruttivo, ovvero cercare di migliorare la situazione anche stravolgendola, quindi a me piacerebbe vedere solo una commissione e un Parlamento, perché questo vorrebbe dire ottenere un'unione politica, quindi non avere più il Consiglio con il parere di tutti gli Stati membri che blocca sempre ogni direttiva, ogni regolamento, quindi avere una banca centrale europea che sia a tutti gli effetti paragonabile alla Fed e può utilizzare anche l'inflazione o stampare moneta per aggiustare anche momenti di crisi o portare l'euro a pari del dollaro, quindi una maggior competitività. Noi vogliamo anche un'unione fiscale, perché vediamo che tante delle nostre imprese italiane vanno in Austria, dove lo Stato è molto più accogliente, ha una tassazione molto bassa, quindi pagare spesse volte delle tasse come a Lussemburgo, come a Bruxelles, ci rende meno competitivi. Con un'unione fiscale invece lo stipendio di un lavoratore sarà uguale in tutta Europa. Poi sarà la bravura e il merito di uno stesso dipendente o un imprenditore a variare, ma quello che noi consideriamo è la tassazione come elemento fondamentale e che sia effettivamente europea. Bene, sono le opinioni di Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e quindi del Partito Popolare Europeo, come abbiamo detto, la più giovane europarlamentare della delegazione italiana, che però penso abbia molte possibilità di diventare una delle meno giovani nel corso degli anni. La ringraziamo, ringraziamo Lara Comi per avere trovato il tempo nella sua giornata, che posso assicurare è davvero molto affollata, il tempo di conversare con noi. Ringraziamo soprattutto voi per averci cortesemente seguito. Arrivederci su Parla Europa. Grazie a voi. Grazie a voi.